ciao io sono irina lui pietro e lui ice è il nostro amstaff siamo venuti qui a scuola per cani in quanto il nostro amstaff dall'ottavo mese di vita ci ha dato dei problemi soprattutto fuori con gli estranei premessa siamo già andati da altri tre addestratori e sono stati un vero fallimento in quanto non ci hanno aiutato per niente anzi il problema era stava diventando davvero grosso e abbiamo scoperto scuola per cani e da quando già dalla prima lezione abbiamo notato che il nostro cane soltanto fuori in passeggiata era davvero tanto cambiato e abbiamo scelto di fare questo percorso e devo dire che il nostro cane è migliorato tantissimo sia dentro casa che fuori era un cane aggressivo era diventato aggressivo con le persone dal nulla magari uscivamo in passeggiata lui vedeva una persona anche a metri metri di distanza e la puntava come per aggredirla però questo succedeva solo con alcune persone siamo venuti qui e col durante il nostro percorso piano piano abbiamo migliorato di gran lunga questa cosa è ovvio che sarà una cosa che ci porteremo sempre dietro il cane andrà sempre in giro con la museruola sarà comunque sempre un cane acquista prestare attenzione non è detto sempre non è detto sempre dobbiamo arrivare a esatto responsabilmente in determinate situazioni continueremo a usarla però esatto la nostra paura era più che altro essendo un cane di grande di una stazza bella importante fosse avvero un pericolo anzi lui è era un pericolo soprattutto perché noi potevamo fare qualcosa però sempre nei limiti e quindi niente siamo qui stiamo migliorando giorno dopo giorno lezione dopo lezione e devo dire che sono davvero molto soddisfatta perché io avendo un cane che pesa 40 kg e io ne peso pochi di più portarlo in giro non era una cosa piacevole invece adesso vado da sola esco da sola sono contenta vado a passeggiare sul lago tranquilla perché so che il mio cane è tranquillo quindi essere tranquilla io essere tranquillo lui è davvero un'ottima cosa perché riusciamo abbiamo fatto un bel lavoro stiamo costruendo e facendo un bel lavoro insieme quindi questa cosa mi porta davvero soddisfazione posso aggiungere siete stati i primi a parlarci di sicurezza a 360 gradi cioè ogni addestratore aveva il focus solo ed esclusivamente sul cane voi l'avete dato sulla collettività e quello che può succedere in qualsiasi posto che era la cosa che noi mancava nettamente quindi non posso solo che ringraziarvi perché veramente cambia la vita cambia la sicurezza quando si esce e si vive bene una passeggiata si vive bene un contesto familiare ci vive bene tutto quindi vi ringrazio veramente di cuore grazie a voi eccoci grazie mille ragazzi grazie